Ben trovati al consul d'appuntamento con il fatto del giorno. Il tema che vi proponiamo oggi è un tema che riguarda tutti noi, la vita quotidiana di chiunque, cittadini, famiglie, comunità, amministrazioni pubbliche ed è una delle più grandi emergenze del nostro tempo, sia pure senza drammatizzare, senza andare alle emergenze magari più straordinarie. Parliamo del servizio di igiene ambientale nelle città, quindi della cosiddetta tradizionale raccolta e smaltimento dei rifiuti, perché è un problema con il quale, come spesso accade su tanti versanti della vita pubblica e comunitaria, al sud si è un po' in ritardo e certe conquiste si fanno con qualche decennio di ritardo, come nel caso della raccolta cosiddetta differenziata, che quanto di più normale, naturale, giusto e opportuno si sarebbe dovuto fare già da tempo, ma come anche accade in altri campi, questo succede prima in altre realtà del paese e poi ad un certo punto quasi per necessità. questa cosa parte anche al sud. Claudio Conti, di Lega Ambiente, conosce questa materia, l'ha studiata, l'ha vissuta, ci si confronta da tempo proprio come Lega Ambiente, ma anche come assessore comunale in un breve periodo nella precedente amministrazione, si è misurato con questo problema, perché al sud si arriva sempre dopo, verso tutti quei comportamenti come dire di civiltà collettiva e anche di utilità collettiva rispetto a cui siamo così allergici noi e perché? Intanto secondo me non è una questione culturale, anche perché dove c'è una buona gestione i risultati tornano immediatamente. Ho sempre citato un caso molto particolare che era quello del Ligo di Ebea che viaggia da anni sull'80% di raccolta differenziata, mentre il comune accanto confinante che era a Monterosso, Almo, viaggiava sull'1, 2-3%, quindi non può esserci una differenza etnica, era una differenza di organizzazione, dove abbiamo degli amministratori diciamo più illuminati, possiamo chiamarlo così, le cose funzionano. D'altra parte poi scontiamo anche un fatto, non abbiamo una imprenditoria locale che ha know-how per trattare i rifiuti in maniera differenziata. Queste due questioni aggiunto al fatto che il settore rifiuti è stato sempre il luogo dove scaricare tensioni sociali, cioè assumiamo qualcuno in un settore dove non ci vuole andare nessuno e ha fatto sì che anche dal punto di vista del numero dei dipendenti, noi siamo molto al di sopra delle altre regioni d'Italia, ma con una qualifica oggettivamente bassa. Queste tre cose, oltre a una mancata programmazione della regione, hanno fatto sì che la Sicilia è rimasta l'ultima regione. Faccio un esempio la Sardegna che dal punto di vista degli indicatori socio-economici è molto simile alla Sicilia, sono già 4-5 anni che veleggia abbondantemente oltre il 60% di raccolta differenziata. Questo comporta una riduzione dei costi e i dati dell'ISPRA mettono in relazione tariffa, cioè quanto paga ogni famiglia all'anno, con la raccolta differenziata. Più bassa è la raccolta differenziata, più alta è la tariffa, più alta è la raccolta differenziata, più bassa è la tariffa. Ora scopriremo tutti gli aspetti nelle pieghe di questa realtà, però proprio per tornare ancora alla premessa, l'esempio calzante di Licodì e Obea, magari non sarà un fatto di cittadini, ma certamente sarà un fatto di pubblici amministratori, perché statisticamente sono tutti concentrati altrove quelli che fanno i buoni amministratori, ci sarà pure un motivo. E anche a proposito del nauavo delle imprese, perché le imprese siciliane devono essere quelle dei vari Catanzaro e tanti altri che si sono arricchiti anche in modo criminale, a volte proprio con queste discariche, mega discariche che hanno devastato l'ambiente e inquinato il territorio. Intanto, probabilmente noi organizziamo un ecoforme provinciale, premeremo il Comune di Monterosso, che cambiato amministratore è balzato all'80% come Licodia. Questo significa che è possibile, ne abbiamo sempre detto. L'altra questione è che per quanto riguarda gli impianti, che sono l'altro nodo fondamentale, perché noi possiamo fare comunque una buona raccolta differenziata, ma abbiamo bisogno degli impianti per trattare, per trattare la frazione umida, cioè quella che puzza e che crea percolato, l'impianto di compostaggio. Noi assistiamo ad un paradosso, l'impianto di compostaggio di Ragusa è stato inaugurato nel novembre 2009, dopo che è stato chiuso? È stato riaperto a ottobre 2018. Sono persi nove anni che hanno comportato un maggior costo per tutta l'amministrazione e anche per quanto riguarda i cittadini, ovviamente. Qui si è puntato molto su impianti pesanti, significa la grande discarica e ricordo i grandi inceneritori di Cuffaro, che poi furono bloccati per tutta una serie di questioni relative a contrasti con la normativa comunitaria. Oggi si sa che dai rifiuti si può tirare risorsa, sono i materiali che recuperiamo, ma anche energia. I famosi impianti di gestione anaerobica dell'umido possono produrre biogas, cioè un gas di origine biologica che è identico al metano che estraiamo dal sottosuolo. E in più dall'umido, se trattato bene, otteniamo qualcosa che possiamo definire, ma non lo è, un concime che può portare sostanza organica ai suoi siciliani che tendono ad inerisirsi sempre di più, perché c'è meno sostanza organica. Quindi, diciamo, il ciclo si può chiudere, come l'hanno chiuso in tante regioni d'Italia, con vantaggio per tutti. Bene, allora, adesso la raccolta differenziata è all'ordine del giorno, effettivamente è nell'agenda di tutte le amministrazioni anche in Sicilia. Rispetto ai tempi nei quali si arriva a questa scadenza e a questo avvio e quindi ai ritardi che ci sono, quali sono state le dinamiche che hanno caratterizzato tutti gli anni precedenti nei quali si parlava, si cominciava ad annunciare, si diceva, si avvertiva più o meno, almeno nelle parole dichiarate, la consapevolezza della necessità di doverlo fare, ma non si faceva mai. Cioè, cosa accadeva esattamente in quegli anni? Possiamo fare anche, ad esempio, non so, di Ragusa, della provincia di Ragusa. Ecco, per esempio, a Ragusa parte quest'anno la raccolta differenziata, ma in tutti gli anni precedenti, Claudio Conti è stato anche assessore della precedente amministrazione e a un certo punto è andato via, è uscito, magari per un dissenso, con delle posizioni critiche anche su questo. Era solo, come dire, negligenza, era incapacità o c'era dell'altro? Ma è un misto di tutto. C'è un po' di incompetenza, c'era un basso livello di cultura, c'era una inosservanza delle regole, c'erano i mancati controlli. Non si può dire che è quello il motivo. Io, nei, diciamo, quelli di 8-9 mesi di assessore come tecnico, ho impostato questa gara, dicendo la gara prossima va fatta, obiettivo 70%, ma soprattutto la tariffazione puntuale, che significa pago in base al rifiuto che produco, non in base alla superficie di casa mia. Per cui in passato io potevo essere singolo, ma abitare una casa di 300 metri quadrati e pagavo molto di più di una famiglia di 8 persone che abitava in 30 metri quadrati. E questo ora ci si sta arrivando. L'altra questione è quella del controllo. Nel senso che si possono fare, ci possono essere amministratori che fanno anche delle buone gare, ma poi bisogna andare a controllare chi gestisce il servizio. Perché una delle tecniche ormai, diciamo, classiche, sul quale ha fatto luce anche la magistratura, è questo. Si partecipa alle gare, si fa un alto ribasso, si va sotto costo, poi bisogna recuperare, ma come si recupera? Non facendo servizi che sono pagati, ma che non vengono resi. Ovviamente se c'è un buon controllo si sanziona la ditta, se non c'è un controllo o si chiude un occhio, la ditta recupera da questa mancanza di servizi. Questo è un classico siciliano, ma non solo. Ed è un sistema dove si mischiano interessi della ditta, interessi di pezzi della politica e interessi di pezzi di sindacato, perché poi una cosa che bisogna dire è che, come dire, fa male a qualcuno, è che noi qui abbiamo una produttività che è la metà delle altre zone d'Italia. Cioè ciò che in un'altra zona d'Italia fa un operaio, qua lo fanno in due. Ovviamente però questo costo ricade tutto sui cittadini, perché non è come una volta che il comune ci mette i soldi. Il servizio lo si paga con la famosa bolletta che arriva ogni anno a casa. A proposito di questo gap di produttività, da cosa dipende? C'è un problema di scarsa qualità delle imprese, poco organizzate? No, la scarsa produttività dipende da questioni che storiche. Cioè nel passato si è ampliato di molto l'organico e poi quando si cambia ditta non si può licenziare, cioè il personale di una ditta passa a quella che prende il suo posto. Ci sono casi virtuosi in provincia. Per esempio il comune di Pozzallo ha impostato una gara col blocco del turnover. Ha detto sì, io non posso licenziare persone, però nei prossimi anni quelli che vanno in pensione non verranno mai sostituiti. Quindi a poco a poco si ritorna, si aumenta la produttività. Questo però è un caso che pochi seguono, per cui abbiamo organici molto ampi e abbiamo per esempio in provincia organici ridotti all'osso. Una gestione unitare della provincia avrebbe permesso di non avere suberi, ma di non avere neanche carenze d'organico, spostando dipendenti, come succede nella pubblica amministrazione, da una comune a un altro comune. E qui si è scelto per scelta politica di andare da soli. Questa fu una malaugurata idea di crocetta per cui ogni comune poteva bandirsi la propria garetta. Invece di dire andiamo in gruppo, facciamo economia di scala, si gestisce meglio, i comuni piccoli non hanno personale che possono seguire questi servizi. E questo è stato un disastro per la provincia di Ragusa. Dove l'hanno fatto è stato un disastro per altri motivi, anche perché poi l'altra questione è che i comuni hanno scarsa capacità di recupero dell'Atari e quindi hanno difficoltà a pagare i dipendenti. E si innescono i vari scioperi, il blocco della raccolta. Cioè è un sistema estremamente complesso questo. Ho ascoltato poc'anzi, ho impostato io quella gara quando ero assessore, no? Saranno passati quattro o cinque anni fa, no? Era i primi mesi del 2014, ho impostato la gara per la progettazione, perché si è ritenuto di fare a meno della mia collaborazione, anche perché una delle cose che avevo cominciato a controllare è il rispetto del contratto. Normalmente un contratto… Una colpa gravissima questa? Sì, è una colpa gravissima, perché non l'ho mai capito, perché ho cercato di fare gli interessi dei cittadini, perché se una ditta deve dare un servizio ed è pagato per quel servizio e dà di meno, quella differenza la deve tornare indietro o migliora il servizio. Questo penso che sia una cosa di una banalità unica, però quasi sempre in tutte le amministrazioni siciliane, io ho soltanto questo punto di riferimento, questa regola viene pochissimo applicata. E questo succede anche con l'amministrazione del Movimento 5 Stelle? Sì, si è successo con l'amministrazione del Movimento 5 Stelle. E' strano, cioè rispetto chiaramente al di là delle opinioni che ognuno voglia avere sui partiti, sui movimenti, però non c'è dubbio che il Movimento 5 Stelle spesso si presenta intanto con una propria propensione forte verso i temi dell'ambiente, cioè della trasparenza. Quindi poi chissà perché in quel caso, come dire, magari, non so, forse il fastidio che Claudio Conti ha dato più che riguardare, come dire, l'amministrazione politica, chissà, poteva riguardare anche altri vertici comunali o no? No, io penso che tutto fosse legato ad un disallineamento fra ciò che si diceva, che veniva ovviamente dall'alto e ciò che si era. Non avendo storia, io ero l'unico politicizzato, tra virgolette, nel senso che avevo vent'anni, venticinque anni di politica nell'associazione, ovviamente, non nei partiti. Non si capivano quali erano le dinamiche e non si aveva il coraggio di dire no a certe pressioni, perché le pressioni da parte di chi fino a quel momento aveva fatto il bello e il cattivo tempo ci sono sempre state e ci saranno. Normalmente ci vuole un amministratore che prende di petto le cose e impone. Questo non c'è stato e, diciamo, fra i contrasti, fra l'assessore che cercava di far rispetto al contratto e la ditta che resisteva, io sono rimasto il soggetto perdente. Bene, allora in questo arco temporale intercorso tra la fine di quell'esperienza, quando però fu, diciamo, concepita e impostata la gara e i risultati della gara stessa con l'aggiudicazione del servizio a questa associazione temporanea di imprese di cui fanno parte la Busso, ma anche l'Igm, mi pare, no? Così è avvenuto? Cioè il comune, quindi l'amministrazione comunale, prima con la prosecuzione del mandato da parte di Picciccio e adesso con questi primi mesi di Cassiccio, come ha fatto, come si è posta nella ottica di Cravo di Oconti in quanto, come dire, Lega Ambiente è il proprio now-how? Allora, la gara poi è stata condotta correttamente, nel senso che l'amministrazione non ha, nonostante qualcuno avesse idee diverse, non ha bloccato nulla. Quindi la gara è stata bandita con quelle caratteristiche, con quelle che io ritengo una buona progettazione. Il problema che si è posto è stato dopo l'affidamento, nel senso che ci sono stati forti ritardi, ci sono state delle modifiche sulla dotazione dell'appalto, quindi l'attrezzatura, ed è quello che oggi vediamo. Faccio un esempio, noi abbiamo criticato sin da subito il fatto che i bidoncini non fossero stati distribuiti porta a porta, cosa era prevista nel progetto. Aveva una logica, la logica è di andare a scovare l'evasore, perché io busso una porta, consegno l'attrezzatura, prendo i dati, poi li incrocio con gli elenchi del comune e vedo se uno è in ruolo o non in ruolo. Ma non solo, questa era la fase in cui si distribuiva il materiale informativo, si spiegava alle persone come fare e per questo furono stanziati 190 mila euro, solo per questo. nella realtà è stata distribuita dicendo alla persona recatevi in piazza e vi prendete il bidon. È chiaro che non si può pensare che tutti lo facciano, soprattutto nel centro storico è successo che... Quindi si è rinunciato a quel momento di controllo utile. Che è fondamentale perché prendendo tutti i dati poi si può tracciare il rifiuto e far pagare in funzione del peso e non della superficie. Questo ha fatto sì che persone che non hanno ritirato i bidoni, si sono ritrovate anche senza cassonetti ed ecco le discariche opusive che ci sono giornalmente in centro. Questo è un risultato. L'altra cosa è quello di aver cambiato la dimensione delle attrezzature. Se uno si fa il giro, mi pare, il mercoledì mattina e quando si raccoglie la plastica troverà il bidoncino giallo, ma sopra ogni bidoncino un sacchetto. Ciò significa che il bidoncino che si è dato è insufficiente. Ora, io parlo in questione un po' tecniche. Quel bidoncino ha un volume di 35 litri. Si prevedeva che ci fosse un sacco da 110 litri, cioè di tre volte tanto, perché se ne ho fatto dei calcoli, perché si è stabilito quanto il rifiuto di plastico si produce, ogni giorno per ogni persona, quando è l'ingombro, c'è un calcolo tecnico. Ovviamente però costa di meno il bidoncino che tutti i sacchetti per 52 settimane l'anno. Quindi la ditta ha risparmiato. Lo stesso anche con il sacchetto per l'indifferenziato. Se uno va nei condomini a Ragusa, si trova che tutti i bidoni della plastica che hanno distribuito sono del tutto insufficienti. Quindi c'è anche un mancato, come dire, un mancato di organizzazione. Ma di questo doveva occuparsi il comune di controllare che tutto fosse fatto come era scritto nel contratto. Cioè non è che ci fosse una opinabilità. Io accetto questo contratto e devo eseguire così come è scritto e qualcuno me lo deve far rispettare. Nella realtà nei primi sei mesi dell'anno questo non è successo. La ditta ha fatto quello che ha voluto e ora ci sembra un po' difficile recuperare. Si può recuperare. Se il sindaco Cassì, abbiamo avuto un incontro, interviene come normalmente dovrebbe intervenire un sindaco e ci ha dato questa impressione, la situazione si può aggiustare. Di sicuro noi abbiamo rilevato che comunque la gara doveva essere annullata. C'erano tre vizi grossi. Uno durante la gara, diciamo Lati che ha vinto, ha detto il falso. Su cosa? Era sui mezzi a recupero energetico della frenata, che era un parametro. Questo lo rileviamo dal verbale che abbiamo. Disse che dava mezzi di questo tipo più del 30%. Nella realtà Lulega disse no, sono il 26%. È chiaro che superando il 30% si prende il punteggio aggiuntivo. Quindi comunque è una gara falsata già da questo dato. Tar del Lazio dice che quando c'è una cosa del genere, visto che manca la fiducia a stazione appaltante, è soggetto che a questo punto tutti potrebbero dire il falso perché nessuno controlla, va chiusa. Altra cosa, in questo tipo di gare non si può mai scendere sotto il livello minimo stabilito dall'amministrazione. L'amministrazione stabilì che ci voleva un sacco da 110 litri, cosa fondamentale. La ditta ne ha preso uno che costava di meno. Non si può scendere. Altri consigli di Stato dicono che queste gare, se si fa così, si esclusi. Terzo, si è cambiata la gara dopo l'aggiudicazione. Dopo l'aggiudicazione si doveva distribuire porta a porta i bidoncini e non lo si è fatto. La gara diceva che entro tre mesi dalla presa servizio bisognava iniziare la raccolta differenziata. Nella realtà la raccolta differenziata dal primo gennaio e febbraio è stata spostata al primo maggio. Ovviamente il Comune ha portato più rifiuti in discarica e la ditta ha risparmiato qualcosa. Il Consiglio di Giustizia europeo dice che quando ci sono modifiche sostanziali dopo la gara, la gara va annullata. Quindi su questo l'amministrazione precedente oggettivamente non ha controllato. Ora, il nuovo sindaco, essendo avvocato, queste cose le capisce perfettamente, speriamo, e non so come si risolve. Il problema è che da una parte, diciamo, l'intuizione che si ebbe cinque anni fa è quella corretta. Il mese di ottobre si dice che c'è il quasi 70% di raccolta differenziata. Nella realtà riteniamo che ci sia un 10% in meno, perché è la qualità del prodotto che va ai centri di lavorazione a scarti abbastanza elevati. Non è fatta bene la raccolta differenziata? Non è fatta bene perché manca la comunicazione. Basta chiedere a chiunque a Ragusa se si è fatta comunicazione. Io non ho mai visto la brochure, una delle 40.000 brochure dovevano essere distribuite dicendomi che cosa andava nell'umido e cosa non ci andava. E questa è un'altra inadempienza. Non mi risulta che ci siano state, possiamo sbagliarci su questo, che si siano fatte 40 incontri in tutte le scuole. Io sono insegnante, a me non risulta. Può darsi che siano stati fatti a San Giacomo, a Marina. Ci dovrebbe essere tutta una serie di incontri con i condomini, con le parrocchie, non ci risulta. Nel famoso calendario che è stato distribuito deve esserci scritto in modo chiaro cosa si può differenziare e cosa non si può differenziare. Faccio un esempio banale. Piatti e bicchiere di plastica si possono differenziare, le posate no. Nella realtà poi la Vulgata dice beh, piatti si differenziano, ovviamente anche i bicchieri, anche le posate. Questo per una assioma. Quindi la parte di comunicazione è assolutamente fondamentale. Poi è vero che c'è uno zoccolo duro che non ne vuol sentire parlare. Parma fa 200.000 abitanti, ha raggiunto l'80%, eppure c'è ancora qualcuno che abbandona un po' dei rifiuti. Ma queste si sanzionano in maniera molto brutale. Ma qui non si possono accusare tutte le persone, dicendo incivili, perché a tanti non è stato detto come fare. Allora, tutte queste irade impienze, questi disattendimenti del contratto sono imputabili all'impresa, da quando è partito il servizio, comunque nel corso di quest'anno. Ma questa impresa ovviamente aveva come interfaccia di controllo il comune, più che nell'amministrazione comunale di rappresentanza politica, ovviamente anche nei dirigenti, nei burocrati. Ora io non so se siano gli stessi oggi con l'amministrazione che sì che c'erano prima. No. Su questo settore no. No, il dirigente che c'era allora c'è stato il servizio a me da settembre. Ecco, è chiaro che quindi qualcuno deve pure contestare queste cose, cioè, come dire, i cittadini intanto al comune ed eventualmente a questi burocrati per il danno che possono avere inflitto alla città o che potrebbero infliggere. E oggi comunque qualcuno anche da parte del comune all'impresa, se non lo si fece allora, lo si deve fare adesso. Cioè, com'è possibile agire per recuperare comunque il danno subito? Allora, intanto sappiamo che dal primo ottobre ha preso servizio il nuovo direttore di esecuzione del contratto. È lo stesso soggetto che ha progettato il servizio e quindi per logica conosce molto bene come è organizzato il servizio e ovviamente lo dovrà fare rispettare perché non avrebbe senso questa, come dire, un controllo superficiale. Da notizie che abbiamo, ma molto, molto generale, poi chiederemo i dati ufficiali, già sono cominciate le prime sanzioni. E il passato è passato, non lo so come si possa andare a recuperare perché comunque il comune di Ragusa nei primi, in quest'anno ha speso più di quanto era preventivato. Altro danno, il danno è fondamentalmente sia monetario ma c'è anche un danno di immagine perché se uno va in giro tutte le micro discariche abusive, che in passato non c'erano perché c'erano i cassonetti, sicuramente danno a quei turisti che arrivano un aspetto che non ricorderanno, che non verrà a dimenticare. Noi quello che speriamo è che si rimetta in carreggiata tutto. In genere abbiamo all'inizio di ogni sindacatura come associazione buone speranze, poi vedremo nel tempo quello che succederà, ma l'impressione, un'impressione molto superficiale, è quella che si cercherà di sistemare con dei tecnici ciò che non va. L'Egambiente di recenti ha quantificato anche il danno economico che la città avrebbe subito, un milione di euro mi pare di aver sentito. Sì, noi abbiamo fatto una stima ovviamente, perché il contratto diceva che bisognava iniziare la corte differenziata il primo di febbraio e si faceva il calcolo al 31 ottobre, 9 mesi. In questi 9 mesi bisognava aver raggiunto il 65% come media. Se non si raggiunge il 65% e quindi c'è un maggior costo di discarica, questo va diviso al 50% comune e impresa. Perché? Perché la gara di Ragusa è fatta con la responsabilità condivisa. Perché io posso lavorare bene come impresa, ma il comune mi ostacolo, non fa certe cose, quindi non è colpa mia. Viceversa il comune può metterci tutto, ma è la ditta che non funziona. Noi abbiamo stimato che poi alla fine non si arrivi al 40% in questi 9 mesi e quindi c'è un 25% di rifiuti che vanno in discarica a circa 135-140 euro tonnellata. Questo abbiamo diviso in due. Poi abbiamo fatto una stima di quanto invece si sarebbe potuto differenziare in carta e cartone, plastica, vetro e metalli e venduti ai consorsi e da qui esce fuori questa somma che sfiora il milione di euro, tra mancati ricavi e maggior costi. È chiaro che questo è il danno che c'è. Ora, io non faccio l'avvocato, quindi non so se si può intentare una causa per recuperare questi soldi e di fatto la città ha avuto questo danno. La cosa importante è che comunque che il danno non si perpetui. Certo, e poi c'è anche il problema della mancata comunicazione, se era un obbligo contrattuale non è stato assolto. È un obbligo contrattuale. Quell'elemento che dicevamo, insomma, di quella modalità anche di consegna dei contenitori che avrebbe comportato anche quel tassello, come dire, utile per costruirvi dentro un servizio meglio organizzato. Angelo, questo elemento che era nel progetto l'ho trovato anche nel progetto della ditta. La ditta dice che questi, diciamo, siano un mastello, questi bidoncini andavano consegnate door to door. Descriveva anche che dovevano assumere 16 persone, alcuni per 6 mesi, alcuni per 3 mesi. Descrivevano nel progetto qual era il tipo di software che devono utilizzare, i tablet e tutto. Quindi era qualcosa che avevano messo nel progetto. Quindi è diverso da quello che stiamo, per esempio, stiamo verificando a Pozzallo, dove in questi giorni la ditta sta passando porta a porta per fare un progetto simile a quello di Ragusa, ma stanno contattando tutte le persone. Anche perché ci sono comuni che in provincia hanno il 50-60% di evasione. Poi non si trova in soldi per pagare la ditta, la ditta dicevo sciopera, problemi di scarica abusive e così via. Quindi questo è un dato di fatto. Non si è rispettato nei primi 6 mesi, che è il periodo fondamentale, perché poi tante cose, non so se si riesce a riprendere il capitolato, perché se l'ha ditta già comprato il bidoncino che costa 5 euro su 5 anni, quindi 1,50 euro all'anno, dovrebbe buttarlo via e prendere il sacchetto e potrebbe dire sì, ma io ho un doppio costo, perché si innesca un contenzioso che non so dove va a pagare. Nel mezzo ci sono i cittadini che sono costretti a pagare e se non pagano gli arriva l'avviso. Allora, diciamo che già sono emerse da questa disamina diverse criticità. Da una parte la funzionalità di questo servizio che comporta questo problema che poi si traduce in un danno per la città, per le cose che abbiamo visto. Dall'altra questa gara che in effetti è stata inficiata o viziata da quei falsi e che dovrebbe essere annullata, magari non si farà mai, perché poi ovviamente no. Però intanto c'è questo elemento e dall'altra c'è anche forse la morbidezza del comune o l'acquiescenza del comune più o meno consapevole, almeno nel senso della mancata contestazione di alcune cose, perché lo sapremmo se questo fosse avvenuto quantomeno nei mesi precedenti. Il tutto mentre dentro questa associazione temporale di imprese c'è questa IGM che almeno qui in questo territorio non gode di buona fama, di buona reputazione, ma forse anche altrove, insomma le crone che ci segnalano cose di questo tipo, a Modica ci sono problemi enormi, qui pure. Tutto questo può avere un qualche collegamento anche a voler essere tendenziosi con presunti partner, sponsor importanti di questa impresa che mi pare essere anche nella cerchia delle attività economiche della famiglia dell'ex ministro prestigiato? Io non lo so, la ditta di Siracusa ha gestito per 30-40 anni il sistema di rifiuto a Siracusa, non mi risulta prima dell'ultima gara che è stata poi annullata, attualmente c'è un affidamento temporaneo all'IGM e non pare che non abbia mai superato il 3-4% di raccolta differenziata. A Siracusa si dice che dietro come sponsor ci possa essere, però una cosa è la voce di popolo, quello che si dice in piazza è una cosa poi è la sostanza, non sono in grado, però dicono che c'è una, come dire, dietro c'è qualcuno, come si dice che a Ragusa c'è anche qualcuno dietro, però hanno fatto una serie di, si dice, ma noi come associazione che si occupa sia del interesse scientifico e quindi non ci azzardiamo a mettere in giro quelle gocce che si chiamano fake news, ma andiamo sulle cose concrete, quindi se c'è un documento che dice che c'è un rapporto con qualcuno, lo diciamo, se questo documento non c'è ci asteniamo da dirlo. Bene, e se un po' alziamo lo sguardo verso l'intera realtà della provincia, che situazione troviamo così, anche per i vicenni negli altri comuni? Allora, bisogna dire che in quest'anno la situazione è migliorata e parecchio, nel senso che finalmente abbiamo comuni che arrivano all'80%, oscillano all'80% ed è in Monterossoalmo. C'è stato un caso clamoroso, anche se ovviamente da prendere con le pinze, che è quello di Chiaramonte, che nel giro di un mese è passato dal nulla al 70%, però bisogna dire la verità, abbiamo già verificato che nel mese di luglio 2018, sul luglio 2017, i rifiuti sono diminuiti del 40%, ciò vuol dire che c'è un 40% di abbandoni, però questo abbandono è stato del 30% ad agosto e del 20% a settembre, quindi si sta cominciando a rientrare. C'è stato uno scatto importante, per esempio, di Modica, che è l'ultimo mese che abbiamo, che è quello di settembre, è arrivato al 37%, anche Scigli ha avuto un piccolo scatto, perché era l'ultimo Comune di Provincia sotto il 10%, ha fatto più del 30% a settembre e tutti gli altri comuni sono sopra il 30%, da un annetto, uno o due anni, sia Cate che Comisono viaggiano intorno al 50%, è un po' altalenante, ma sopra il 30% negli ultimi mesi vittoria. Se guardiamo cosa succedeva due anni fa, c'era forse a Ragusa sopra il 10% e tutti gli altri sotto. Quindi sicuramente la situazione è in fermento, ci sono nove gare fatte molto meglio del passato e l'impatto della gestione dei rifiuti tende un tantino a scemare, anche perché gli impianti tendono a esaurirsi. Il caso di Bello Lampo è uno, il caso di Oikos con tutti i problemi, un mister bianco e un botto Sant'Anastasia è un altro, però il passaggio successivo dovrà essere quello della qualità della corso differenziata, non soltanto la quantità, perché non può essere come dati che abbiamo noi di qualche anno fa, che si raccoglie la plastica a Ragusa, ma un terzo è spazzatura e va buttata un'altra volta in discarica. Quindi la comunicazione in questo è fondamentale, ed è fondamentale anche il controllo sia sulle imprese ma anche sui cittadini, cioè i cittadini non possono essere franchi, cioè una volta possono sbagliare, due volte possono sbagliare, e questa volta che sbagliano la sanzione ci vuole. In questo caso l'esperienza ci dice, basta colpirne alcuni, far sapere che queste persone sono state colpite, perché l'anonimato dice 600 multa a Ragusa, poi chi è? Buu, ma se invece si dicesse Angelo Di Natale ha avuto una multa… C'è una sanzione sociale importante. Esattamente, quindi c'è anche una cosa importante nella comunicazione di queste sanzioni, quindi controllare sia l'utente sia l'impesto, tutti devono rispettare i patti, perché si fa un patto sociale per l'ambiente. In il caso della plastica ormai è sotto tutti gli occhi di tutti, siamo strapieni di plastica, si parla di microplastiche, di nanoplastiche, di plastica che noi ingoiamo con gli alimenti e che ci creano problemi di salute, quindi la sensibilità è alta. Quei pochi che non seguono le regole vanno sanzionati e anche pesantemente. Io sono moderatamente, come dire, ottimista, perché poi le buone pratiche vengono copiate, perché se lo fanno il comune vicino non posso farlo anch'io e quindi a poco a poco c'è questo meccanismo. Noi sabato, il 23, presenteremo un progetto nazionale che si chiama Sicilia Munizia Free, si fa in tutti gli ecoploghi di provincia, faremo un ecoforum e metteremo in campo le buone pratiche, così qualcuno se le vuole, se c'è un comune che funziona, perché non copiarlo? Faremo il punto della situazione dell'impiantistica in provincia, perché gli impianti ci vogliono, bisogna togliersi fatti bene e controllati bene ovviamente, ma senza impianti non si va da nessuna parte. Ovviamente non sono gli inceneritori, non sono le grandi discariche, sono impianti per la raccolta differenziata, per la gestione dell'umido. Avremo probabilmente anche l'assessore regionale, vedremo un attimo come si va avanti. I dati che dà la regione sono in lento miglioramento, ovviamente con la situazione siciliana ci vorrebbe una maggiore velocità. È vero però che sono Palermo, Catania, Messina e Siracusa la palla al piede. Bene, siamo in conclusione, ma vediamo se in un minuto anche solo per Cenni possiamo riuscire anche a toccare pochissimi altri argomenti. In provincia di Ragusa è imminente a questo punto le cose con questi numeri della raccolta differenziata, un traguardo breve insomma a breve scadenza, come dire, di autosufficienza complessiva anche rispetto alla capienza di questo nuovo impianto che finalmente pare sia entrato in funzione. Allora, c'è un impianto di compostaggio di Ragusa che è partito di 7 mila tonnellate e c'è in gara, stanno facendo la gara per quello di Vittoria da 25 mila tonnellate e quindi l'impianto di compostaggio è sufficiente. Accanto ci sarà un impianto di gestione anaerobica, cioè il rifiuto umido viene messo prima lì, si forma biogas, si prende il metano, si difende l'energia e poi si è composta. La provincia ha previsto tre piccoli siti nei tre comprensori Modica Vittoria e Ragusa dove l'indifferenziato viene trattato, separato secco umido e poi portato in discarica. È tramontata l'idea che in provincia si possa bruciare spazzatura. Questo fondamentalmente è l'impiantistica, a correddo di questo ci sono i centri comunali di raccolta, i comuni che non l'avevano, l'hanno avuto finanziato dalla regione. Quindi direi che dentro il 2019, inizio 2020, se non ci sono intoppi, ma siamo... Bene, allora l'ultima domanda con una risposta brevissima, se possibile, un giudizio un po' storico-politico su quella che è stata la parabola di questo ritardo in Sicilia, ecco, del ciclo dei rifiuti. Anche attraverso le risposte e i modelli, come dire, amministrativo istituzionale che la regione si è dato. Cioè, siamo passati dalla gestione diretta dei comuni, agli ambiti territoriali ottimali, ora ci sono la SSR, la SSR, non so cosa avremo dopo, ma dietro tutto questo, quando faccio un esempio, non so, dalle croniche, inchiesta montante su tutte, apprendiamo, per esempio, che il signore delle discariche, che si chiami Catanzaro con Siculiano o altri, hanno pesantemente, come dire, avuto rapporti influenti con chi decideva, con i politici che decidevano. C'è da presumere che tutto ciò, non sia avvenuto per caso, e che stiamo pagando un prezzo altissimo a tutto ciò. Assolutamente, sì, i progetti, sempre progettati sui grandi impianti, i grandi generatori, le grandi discariche. Ovviamente, questo confliggeva con la raccolta differenziata e quindi si è, come dire, abbandonato un sistema, diciamo, soft, con poco, come dire, con poco capitale e molto lavoro, mentre il sistema di grandi impianti ha molto capitale e poco lavoro. ovviamente il capitale finisce sempre ai soliti noti. Sì, sicuramente sì, c'è stato, secondo me, la gestione dei rifiuti in Sicilia è stata pilotata questa cosa, ne fa testo la grandissima polemica di un assessore all'ambiente, che era Marino, contro Montante e contro Catanzaro. Aveva probabilmente individuato quali erano i grandi interessi in regione, ma infatti Marino, come è stato scritto, è stato fatto fuori. E allora proprio un pensiero conclusivo con la pluridecennale esperienza in legambiente che ha Clavo Di Oconti. Oggi possiamo dire che tutto ciò è alle spalle? Penso di sì, perché l'aria è cambiata anche qui, nel senso che si percepisce di più il concetto di tutela ambientale, non fosse altro per i grandi disastri e soprattutto per i grandi cambiamenti climatici e i rifiuti. In questo hanno un ruolo importante, perché poi quando c'è l'alluvione le acque si portano anche tutti i rifiuti. Bene, grazie a Clavo Di Oconti di Legambiente, il quale ci ha aiutato a capire cosa c'è dietro il problema della raccolta dei rifiuti, perché soltanto adesso, finalmente pare, in Sicilia si scopre la possibilità concreta di poter eseguire la raccolta differenziata, cosa di cui si ha certamente consapevolezza e contezza da decenni, ma durante i quali, al di là delle parole, nulla si è fatto o si è fatto esattamente il contrario, con un grave costo sia in termini ambientali ma anche economico, per il maggior costo appunto di smaltimento dei rifiuti e dietro tutte quelle trame, quelle dinamiche di interessi affaristico-politici, spesso anche criminale, che oggi ci rappresentano un quadro che, voglio citare le parole di Claudio Conti, finalmente pare che abbiamo alle spalle. Grazie a Claudio Conti, grazie a quanti ci hanno seguito, al prossimo appuntamento come sempre con Il Fatto del Giorno. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.